Non lo deixo estraer in tentazione, non lo deixo estraer in tentazione, gloria al Padre, al Hijo e allo Espiritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo e allo Espiritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Lo Hispiritu Santo Dio Espiritu Santo Il Hamatesir ha lavorato sulle comunità, con enti. Sperghione, Trifamigone, Rigozzi. Sperghione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.